Fare lo speed, fissare un appuntamento dal dottore oppure ritirare la propria carta di identità elettronica non sarà più un'impresa omerica per chi è reticente alla tecnologia. CNA Toscana Centro ha infatti presentato due nuovi punti digitali facili che serviranno per assistere le persone più in difficoltà nell'utilizzo di strumenti elettronici e con le procedure online in genere. Alla pubblica amministrazione sicuramente ma anche alla sanità per accedere ai servizi sanitari, sociosanitari è un grosso problema. Esistono fasce di pensionati che non hanno nemmeno il cellulare. Abbiamo ritenuto opportuno candidarci per aiutare i cittadini a essere agevolati nel percorso della digitalizzazione. Questo sta nella missione del PNRR sulla transizione digitale e questo ci permetterà di qui alla fine del 2025 di coinvolgere la maggior parte della cittadinanza dei nostri territori per avere accesso ai servizi della pubblica amministrazione. I primi due sportelli sono nella provincia di Fistoia, uno qui in sede in via Fermi e in CNA appunto via Fermi, l'altro ad Agliana in via Don Milani ma apriremo nel giro di dieci giorni altri due punti a Prato. Cosa possono trovare i cittadini? Tutti quelli che si immaginano sono i servizi della pubblica amministrazione, dalla richiesta dello SPID, come si utilizza lo SPID, come si utilizza la carta identità elettronica, come posso fare per prenotare una visita medica sul portale CUP 2.0. Tutta una serie ovviamente di servizi che saranno guidati da quattro facilitatori digitali appositamente formati. Tutto ciò è stato possibile grazie ai finanziamenti di Regione Toscana con le risorse del PNRR destinate alla transizione digitale. Noi abbiamo deciso di investire le risorse del PNRR per cercare in qualche modo di ridurre l'ivario digitale che c'è tra le generazioni e tra i territori ovviamente, quelli più disagiati rispetto a quelli più vicini alla città, quelli osiddetti urbani. Noi pensiamo e crediamo che questi progetti abbiano senso se nascono dal basso. L'impegno del terzo settore, in questo caso di CNA sociale stamattina, è la chiave dal nostro punto di vista in un rapporto di collaborazione delle pubbliche amministrazioni.